voglia di andarsi a prendere e realizzare questo successo. Tutti a festeggiare quelli del Pescara, tutti tranne uno che è arrivato con Vanessa Leonardi e che è Birkir Bjarnason. Al nostro microfono, uomo partita Sky. Tra l'altro Riccardo sta imparando benissimo l'italiano, così mi ha detto Federica Rogato, l'ufficio stampa, ti mettiamo subito alla prova. Certo, se il Pescara va a giocarsi la semifinale col Vicenza, gran parte del merito è tuo. Due gol con Livorno, un rigore sotto la curva del Pescara, quanto coraggio hai avuto? No, è tutto complimento da squadra. Abbiamo 90 minuti fuori casa contro una squadra difficile. Abbiamo giocato con Catteveria tutti quanti, 2000 all'ora, così andiamo avanti. Cosa ti ha dato? Cosa vi ha dato Oddo in più? No, è difficile dire ma confidenza, quelle piccole e giuste cose che dobbiamo migliorare, abbiamo fatto abbiamo fatto un grande partito fuori casa. Dove può arrivare questo Pescara? Fino a fondo. Fino in serie A? Certo. Beh, di poche parole però mi sembra che abbia giustizale. Talte soli, noi vediamo .